Apriamo Alessio con la notizia che tiene Banco. Sì, è anche apertura del FattoCutidiano.it, ma su tutti i siti è la prima notizia, arrivata poco prima dell'inizio di Tagadà. I Carabinieri del Rosso hanno fermato un ufficiale della Marina Italiana, fermato per spionaggio, stava cedendo della documentazione privata e classificata in cambio di denaro a un collega russo. Il Ministro Di Maio è intervenuto poco fa, ha detto espulsi due funzionari, 5.000 euro sarebbe il prezzo, Mosca quindi fa sapere sarebbero pronti a rispondere, a chiarire, però l'incidente si è verificato.